L'elemento che appare emergente in tutta la vicenda del rapimento di Giovanni D'Urso è proprio quello delle analogie che il caso presenta con i sequestri di altri due giudici, Sossi Genovese e Di Gennaro Romano, e di quello del presidente della DC Aldo Moro, l'unico conclusosi in maniera tragica. 24 ore dopo il sequestro avvenuto ieri sera nel quartiere Aurelio dove abita la famiglia D'Urso, al quotidiano La Repubblica è arrivata una telefonata con la quale le Brigate Rosse, che già avevano rivendicato il rapimento, annunciavano di aver lasciato un messaggio in un cestino vicino ad un cinema dell'Eur. Nel cestino c'era una fotografia, proprio quella che vediamo, scattata con una Polaroid e un documento di quattro pagine, in cui tra l'altro viene detto che il magistrato sarà sottoposto ad un processo politico. Giovanni D'Urso, 45 anni, distaccato al Ministero di Grazia e Giustizia e addetto ai trasferimenti dei detenuti da un carcere all'altro, è stato rapito qualche minuto dopo le 8, quando, sceso dall'autobus, stava avviandosi a piedi verso casa. La moglie e le figlie hanno atteso per ore sue notizie, ma soltanto verso le 11 hanno saputo del rapimento. Una telefonata al messaggero aveva in pratica dato l'allarme. In tutta Roma erano stati formati posti di blocco da polizia e carabinieri, posti di blocco che sono stati mantenuti anche durante la giornata. Varie le rivendicazioni, comunque sempre da parte delle Brigate Rosse, arrivate in diverse città italiane. A Torino uno sconosciuto ha dettato un breve messaggio ad un cronista dell'Unità. A Verona, una telefonata a Lanza, il rapimento è stato rivendicato dalla colonna Anna Maria Ludman, la stessa che ha siglato le uccisioni del dirigente del petrochimico di Marghera, Sergio Gori, e del commissario albanese. Il telefonista ha avvertito che le trattative saranno condotte dal professor Guido Nicolai, lo stesso fantomatico personaggio che durante il sequestro Moro teneva i contatti con i familiari dello statista. Cosa chiedono i terroristi? Lo hanno già precisato. Lo smantellamento dell'Asinara prima di tutto. Il supercarcere della Sardegna è stato teatro nei mesi scorsi di violente dimostrazioni da parte dei detenuti arrestati per terrorismo. E gli inquirenti, proprio per questo, ritengono che l'ordine per il rapimento di Giovanni Durso sia partito da una cella del carcere di massima sicurezza dell'Asinara.